A me non serve allontanarci. Infatti non ho detto che dobbiamo allontanarci. Devo cercare di essere più tranquilli. Capirci, aiutarci. Ci deve fare del bene, non del male. Ora ci sta facendo del male. E non va bene. Cioè c'è del male nel bene. Capito? Non è un male male. E' un male nel bene che deve diventare solo bene. Quindi, rimaniamo così. E da quello che ho capito, dobbiamo sentirci più liberi di fare quello che vogliamo fare. Come deve essere. Perché da questa parte c'è una persona che ci tiene tanto a te. Il mondo che passa attraverso i miei occhi. Sei tu. Oh! Oh, oh! Grazie.